E' trascorso un anno da quando l'ospedale di Codogno risultò positivo al SARS-CoV-2 Mattia Maestri trasformandosi in un attimo nel paziente 1. In meno di una settimana i contagi aumentarono coinvolgendo diverse zone d'Italia e nel giro di un mese gli ospedali erano al collasso. L'Italia era impreparata, senza mascherine, un piano pandemico e personale sanitario precario. Iniziarono a susseguirsi un numero sempre più elevato di morti nelle abitazioni e negli ospedali. I contagiati erano soli a combattere contro un nemico invisibile senza una cura precisa. Da quel momento il virus inizia a galoppare, le terapie intensive si intasano, le giornate trascorrono con l'attesa di conoscere il bollettino quotidiano. Il 9 marzo il governo italiano annuncia un lockdown e quasi tutto il paese si firma, fatta eccezione per alimentari e farmacie. Si poteva uscire di casa solo con l'autocertificazione per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Per poter uscire all'interno del proprio comune occorre attendere la fase 2 e solo a giugno verrà attivata la fase 3, ritornando quasi alla normalità, con protocolli precisi da rispettare durante l'estate. Due mesi più tardi, con la riapertura delle scuole, la curva dei contagi risale e subentra la seconda ondata. Il governo attua nuovamente delle restrizioni, dando vita anche al coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Scoppiano le proteste a Napoli, ma anche a Milano, Torino e altre città. La coesione e la solidarietà che avevano caratterizzato il primo lockdown non esistono più. Non si sentono i canti sul balcone, non si vedono gli arcobaleni, con su scritto andrà tutto bene. Non vengono più elogiati i dottori, gli infermieri e tutto il personale sanitario, i quali sono stati in prima linea rischiando la loro vita ogni giorno. La gente non accetta nuovamente di essere rinchiusa, soprattutto chi senza lavorare non può andare avanti. Ad ottobre in campagna e a novembre nel resto d'Italia ritorna anche la didattica a distanza obbligatoria nelle scuole superiori, nonché lo stop ai centri commerciali, nei weekend e la riduzione del 50% della capienza dei mezzi pubblici. L'Italia si colora per poter dare restrizioni specifiche alle regioni con i dati preoccupanti e allo stesso tempo permettere ai territori meno colpiti dal virus di continuare ad avere maggiore libertà. La seconda ondata è ancora in corso, tra timori per le diverse varianti e i numeri di contagi e morti che non si arrestano. I casi totali da inizio epidemia in Italia sono 2.808.836, i morti 95.992. Una luce in questo tunnel l'abbiamo vissuta il 27 dicembre quando in tutta Italia, così come in tutta Europa, si è tenuto il Vaccine Day, l'avvio simbolico della campagna di vaccinazione anti-Covid-19. Un anno ricco di sensazioni contrastanti, paura verso un nemico invisibile, disperazione, dolore per chi ha perso i propri cari, rabbia, timore e impotenza verso chi viene colpito dal virus e non gli si può stare accanto. In certezza del futuro perché molti hanno perso il proprio lavoro, altri sono stati costretti a chiudere attività che portavano avanti da anni con dedizione e sacrificio. In troppi casi è prevalza l'incoscienza e leggerezza, superficialità e diffidenza. C'è chi ha guardato anche il lato positivo, apprezzando le piccole cose, sentendosi grati perché a volte la vita ti porta a correre senza soffermarsi e guardare realmente ciò che conta. La battaglia verso il Covid non è terminata, ma il vaccino può farci sperare in un ritorno alla normalità, la stessa che abbiamo dato per scontato senza renderci conto che è l'essenza della vita.